Salve amici, vi porto il Threadbinder Questo è delle carte che do solo per il cerco E questi due sono delle carte che do anche per non carcere il cerco Iniziamo con quelle delle carte che non do per il cerco Allora, Ghost, Utensile, non so se si vede Ultimate, Secret Secret, Gold, Super Ok, poi Ultra Ultra, 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 Gold Secret, Ultra, Raro, Ultimate Ultra, Ultra, Super, Ultimate, Secret, Ultra, Ultra Ultra, Super, Super, Secret Secret, questi tre Ultra Questo è in giapponese Secret, Ultra, Ultra, Super, Super, Ultra, Super, Super, Super Super, Super, Ultra, Super Questo è in giapponese Secret, Ultra, Super, 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 Ultra, Super, Super Poi, secondo album delle carte che non do per il cerco Tutto Super, 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 Super si crea si crea tu ultra raro ma sembra che abbia la scritta verde ragazzi qualcosa di torneo no è assolutamente raro da pack quanto è sciocco ultimate ultra sub e ultra super ultimate super ultra super ultimate ultra ultra super super secret ora il cerco innanzitutto il cerco guardate il cerco di questo video perchè quello del canale è vecchio mandate messaggi privati altri non leggo molto i commenti quindi è meglio se mandate messaggi privati ascoltate il video con l'audio vabbè se lo state ascoltando quello che vi sto dicendo lo state ascoltando con l'audio lol allora il cerco è un raggiutopia ghost black rose ghost aspettate che mo vi dico allora il tiras ce l'ho roach le viare adreus zemaio ehm questo ce li ho uno scrap dragon poi il librarian molto urgente e vabbè un warning e basta perchè le pod ce li ho vabbè allora questa non la do proprio e neanche questo quindi queste due come se non esiste non esiste ultra secret non esiste queste due carte ok allora guardo tutto ultra se la cadente ghost berserker ghost che non fa questo Skype di merda non so che rispondo se no ok comunque ehm vi stavo dicendo ultra questo odino katastore common in giapponese non so se avete visto la posta da straight 58 edge che mi ha messo come omaggio bellissimo lo do molto difficilmente anche questo questa non la do ehm ultimate ma non la do secret super ultra ultra gold ma non la do ultra non do secret lo posso anche dare queste tre ultra non le do la non super potrei magari potrei 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 ok ragazzi allora questa carta è solo per quel cazzo di cerco ciao